Musica Si è parlato di ambiente nello scorso consiglio regionale con l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 di ARPAT all'Agenzia per la Protezione Ambientale della Toscana documento che passa maggioranza con 21 voti a favore e 12 contrari a illustrare l'atto in aula la Presidente della Commissione Territorio Ambiente Lucia De Robertis ARPAT registra un valore di produzione di 52 milioni e un utile di esercizio di 3 milioni e 400 mila euro Di questo il 20% è destinato a riserva legale, l'80 andrà restituito alla regione toscana I numeri sull'attività apparano di 2876 ispezioni ambientali 3.900 pareri emessi e 17.000 campioni analizzati ma sul fronte occupazionale c'è una criticità Dei dipendenti sono in tutto 628, il 71% ha più di 50 anni e quindi non può svolgere al meglio alcuni tipi di attività È un bilancio ovviamente che noi abbiamo votato convintamente abbiamo visto invece il voto contrario delle opposizioni che spesso e volentieri evidenziano la necessità di potenziare di supportare le attività di ARPAT e quando poi c'è da votare il bilancio poi periodicamente assumono un atteggiamento che per ipotesi e per portare all'estremo un ragionamento se noi dessimo seguito all'atteggiamento delle opposizioni ARPAT dovrebbe chiudere Noi invece vogliamo che ARPAT continui a svolgere il ruolo fondamentale che ricopre in alcune vicende, ad esempio quella del CEU io ho ricordato in aula noi dobbiamo una segnalazione del 2018 proprio di ARPAT e della regione toscana l'avvio di una serie di approfondimenti e quindi per noi va il ringraziamento e soprattutto l'evidenziazione dell'opera meritoria che ARPAT svolge Da qui anche l'approvazione di un ordine del giorno collegato al bilancio che è stato sottoscritto come prima firmataria dalla Presidente De Robertis nella quale noi ovviamente andiamo a richiedere anche la possibilità di valutare in un confronto con ARPAT un potenziamento anche del personale a seguito anche di una serie di elementi che sono emersi proprio in commissione Rubo una decina di secondi per dire che noi abbiamo assunto anche una serie di stimoli che sono arrivati dal dibattito per chiedere e soprattutto per promuovere un'azione di ulteriore approfondimento all'interno della commissione perché su alcuni temi che erano in qualche maniera anche citati in un atto presentato dalla Lega che a nostro giudizio poteva essere implementato e probabilmente anche non aveva gli elementi di aggiornamento ultimi noi riteniamo assolutamente opportuno e necessario che ci sia una fase di approfondimento in commissione con proprio ARPAT per capire anche sul tema ad esempio dei campionamenti ma anche su altre questioni connesse anche al tema CHEU come poter continuare a operare un'attenzione di grande e assoluta vigilanza e soprattutto anche approfondimento di una tematica che a noi sta molto a cuore e quindi ARPAT strumento fondamentale per portare avanti queste attività adesso e anche in futuro Un bilancio tardivo dice Fratelli d'Italia e che mette in evidenza gli obiettivi non raggiunti Innanzitutto sui tempi si fa il bilancio consuntivo 2021 nel 2023 quindi questo è sintomatico di un malfunzionamento delle procedure interne ma soprattutto il direttore generale certifica che c'è una diminuzione del personale e un mancato raggiungimento di molti degli obiettivi che l'agenzia si era posta di raggiungere nel 2021 fra cui molti controlli ambientali le prestazioni tecnico-scientifiche a sostegno degli altri uffici e anche la diffusione della conoscenza ambientale in più c'è un utile di 3,4 milioni di cui la regione per l'80% richiede la restituzione anziché destinarlo al completamento degli investimenti all'interno dell'azienda e soprattutto all'assunzione di nuovo personale Chiedete in particolar modo controlli per quanto riguarda la vicenda Cheu? Noi poniamo l'accento sulla mancata realizzazione delle bonifiche qui si parla, si parla, si parla ma in realtà sulla 429 sul Green Park di Pontedera ancora ci sono i teloni a coprire il Cheu che è lì che continua a inquinare questo francamente è inaccettabile Per la Lega le maggiori criticità sono il tema dell'età dei dipendenti e dei mancati controlli perché negli ultimi 10 anni il personale qualificato per svolgere alcuni tipi di attività tecniche specifiche e quindi che deve essere un personale che ha un'età al di sotto dei 50 anni in realtà oggi coloro che lavorano in ARPAT e hanno più di 50 anni sono il 70% quindi diciamo sono poche le persone a disposizione di ARPAT per svolgere alcuni tipi di verifiche è anche vero che questo è un problema come dicevo che dura da 10 anni e nulla si è fatto evidentemente per risolvere questa problematica Respinto un ordine del giorno della Lega che impegnava il Presidente e la Giunta a finanziare ARPAT per l'attivazione di uno specifico progetto a supporto delle amministrazioni comunali per facilitare gli interventi di bonifica dai siti inquinati da Cheu Per la prima volta il Consiglio regionale si è portato un ordine del giorno per dare un indirizzo di attività e di monitoraggio che ARPAT deve svolgere l'abbiamo fatto sul tema del Cheu che crediamo sia un tema rilevante e importante che ARPAT debba svolgere sui certi tipi di controlli e verifiche lo continueremo a fare perché quelli che sono i piani di sviluppo che poi ARPAT presenta alla Giunta noi come Consiglio non li vediamo se non poi nella fase della discussione dei bilanci Attorno alla Shoah non significa la Shoah significa fare una scelta che esce dai campi di sterminio non perché i campi di sterminio non siano qualche cosa di troppo importante da non dirsi ma perché le vittime in fondo sono sempre state considerate i sommersi delle persone dimezzate non delle persone così 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 Paola Zamboni curatrice della mostra Attorno alla Shoah Fotografie e Memoria presenta l'esposizione inaugurata presso lo spazio espositivo Carlo Azzeglio Ciampi a Palazzo del Pegaso presente tra gli altri il presidente dell'Assemblea regionale Antonio Mazzeo una tra le mostre più importanti che ospitiamo qui in Palazzo del Pegaso è un modo per dire con forza che quello che è accaduto può accadere ancora e che non dobbiamo voltarci dall'altra parte e attraverso le immagini splendide della fondazione Alinari raccontiamo prima e dopo la Shoah Una mostra questa che celebra la giornata della memoria 2023 ponendo al centro le persone colte nella loro vita quotidiana una vita ordinaria che la Shoah distrusse irreparabilmente un'occasione questa per diffondere anche l'enorme patrimonio della fondazione Alinari Io condivido molto il taglio di questa mostra e sono contento come Alinari di aver partecipato perché la memoria è qualcosa di molto delicato la ripetizione è pericolosa certe cose alla fine producono assuefazione e quindi poi alla fine disinteresse e distacco mentre la giornata della memoria appunto è fatta per preservare dentro tutti noi questo senso di inaccettabilità questa qualcosa che è incommensurabile che rimane come un buco nero diciamo nel centro dell'Europa scegliere quindi in qualche modo di sottolineare quel buco nero di lasciarlo così cioè di non fare vedere i campi ma di far vedere quello che c'era prima e quello che per fortuna c'è stato anche dopo è secondo me un modo per rispettare ecco anche il silenzio che di fronte a certe cose bisogna mantenere al taglio del nastro erano presenti anche diversi consiglieri regionali questa mostra devo dire una delle più belle che abbiamo fatto come messaggio al di là delle magnifiche foto che sono esposte perché incontra la sollecitazione proprio di questi giorni della Liliana Segre che ci ricordava quanto fosse a rischio per abitudine una memoria un po' di maniera dico io che si sta diffondendo e che impedisce di sentire tutta la profondità drammatica e che a volte impedisce a questi fatti della storia terribili di interrogarci per l'oggi la prospettiva è quella data dall'incontro a Parigi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Presidente Macron per un rafforzamento stretto dei rapporti fra Italia e Francia che nel contesto dei 27 Paesi dell'Unione Europea possa diventare un'asse molto forte che io condivido perché siamo le nazioni storicamente legate anche se in taluni periodi può essere nata anche una competizione e in questa logica il fatto di stringere accanto all'accordo generale fatto dai vertici degli Stati Italia e Francia appunto nel 2021 con Mattarella presente alla firma dell'intesa fra regioni questo è molto importante noi abbiamo già un progetto europeo che è quello delle regioni marittime che lega cinque regioni tre francesi due italiane la Sardegna e la Toscana e che nel contesto di questi fondi comunitari si legano alla Francia le cinque province costiere della Toscana oggi l'approvazione del primo patto fra regioni la regione Provenza Alpi Costa Azzurra con la regione Toscana l'accordo di collaborazione prevede diciamo sinergie sul piano economico culturale turistico sociale e analogo accordo di collaborazione lo sigleremo anche con la regione Corsica a cui noi abbiamo dato fra l'altro il sostegno per candidarla a regione della cultura europea per il 2026 con questi due accordi di collaborazione saremo a Parigi a firmarli proprio come elemento di conseguenza di quello che è un rapporto che fra Italia e Francia si sta siglando ai massimi livelli Una targa per celebrare i successi sportivi di Massimo Milano tre volte campione del mondo e 60 volte campione italiano in acque libere nella disciplina del nuoto pinnato è stato conferito dal Consiglio regionale come segno di attenzione verso quelli che possono essere considerati sport minori ma che nulla hanno da invidiare a specialità più conosciute cercare di dare voce a chi ha meno voce cercare di raccontare storie belle del nostro territorio che vengono raccontate meno lo facciamo nel mondo dell'università nel mondo della ricerca lo facciamo nel mondo dell'associazionismo sportivo non è un caso che stiamo premiando le società più longeve che hanno raggiunto i cento anni di storia stiamo premiando i tanti ragazzi e le tante ragazze toscane che eccellono in iniziative sportive che sono meno note al pubblico di massa alla cerimonia di consegna anche il consigliere regionale Marco Nicolai che fortemente ha voluto l'iniziativa io ricordavo da qualche anno la sua passione per il nuoto ma non avrei mai pensato che sarebbe arrivato a un livello così straordinario ha tolto a questa sua passione tanto tempo ogni giorno me lo raccontava un po' di anni fa su quel treno e ora è un'emozione vedere che ha portato alto il nome dell'Italia oltre che della Toscana nel mondo Grossetano Massimo Milano ha conquistato il doppio titolo mondiale ai campionati del mondo 2022 Master in acque libere di nuoto pinnato con i colori della società Gau Brinella di Orbetello l'atleta aveva già conquistato il titolo mondiale nel 2019 Sì è una grande soddisfazione dopo anni io ho iniziato a sei anni quando già con le prime categorie e poi dopo ho proseguito negli anni non mi sono mai fermato perché per me questa qui è una passione cioè proprio è una cosa che se non la fai quasi ti manca tutti i giorni per cui ecco è un risultato di una vita di tanti di tanti allenamenti di quotidiani tutti i giorni Dove si dire ai ragazzi per avvicinare da questo sport quanto è bello quanto è appassionante cosa diresti? Allora io faccio due sport il nuoto puro e il nuoto pinnato il nuoto puro è proprio uno sport completo che è uno sport diciamo che fa bene a qualsiasi età oltre al fatto che come ho detto ai miei figli che poi non hanno seguito la mia orma che comunque ti salva la vita per cui è uno sport fondamentale uno quando inizia deve subito imparare a nuotare e poi il nuoto pinnato è uno sport un po' particolare perché è la formula 1 praticamente è un pochino più duro dal punto di vista proprio del dolore che quando c'è un attrezzo comunque c'è anche un pochino ci sono le sue conseguenze però insomma è altrettanto è altrettanto bello iscriviti al nostro canale